Scorro l'elenco dei soci dell'ATIT che hanno i requisiti per partecipare all'estrazione del premio di 100 euro in buoni libri, essendo in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2013. Scrivo la formula per generare un numero casuale tra 1 e 110. Il vincitore è il socio corrispondente al numero 16, il signor Andrea Cardini. L'estrazione è stata svolta il 2 aprile 2013 dalla sottoscritta Chiara De Franceschi.